Ciao a tutte, eccomi con me ogni mese a presentarvi le novità di Passione Unghie in uscita questo mese che gentilmente mi hanno inviato. Sono usciti sette colori, come vedete sono tutti meravigliosi. Scusate. E niente, partiamo nel farveli vedere. Allora, il primo è Aruba P01. Vedete questo azzurrino, molto molto bello, steso su tip. Eccolo. Poi abbiamo Tortuga P02, questo è un verde. Anche questo molto bello. Ed eccolo qua. Poi abbiamo Barbados. che è un verde acido, un verde giallo. Molto bello anche questo. Ora, questo sembra poco giallo, ma invece è più su un verdognolo. Poi abbiamo Antigua, P04, che è questo invece è un giallo. È da lontano, guardate, si vede bene la tonalità del verde. Questo è un giallo. Infatti vedete anche la differenza tra i due. Poi abbiamo Trinidad, se si dice così, se si pronuncia così. E questo è un rosa. Sono colori fluo pastello. Molto molto belli. Ed è esteso sulla tip, quindi è questo. Poi abbiamo Grenada. Eccolo. Che questo l'ho già usato ed è favoloso. Si stendono divinamente. Eccolo. Infine, un altro colore che tra questi mi piace molto, 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 molto è questo qui. Si chiama Martinica. Anche questo, se si pronuncia così, dovrei fare uno scuolo di pronuncia. Ed è questo. Che anche questo è un rosato aranciato. Insomma, bello. Salmone. Molto molto bello. Ed eccolo qua. Vi faccio vedere la consistenza del colore. Come sapete, con le diversioni si stendono benissimo. perché non sono troppo liquidi né troppo densi. Hanno una densità, a mio parere, perfetta. Non colano e si stendono divinamente. E questi, per di più, sono anche molto coprenti. quindi direi super promossi questi colori. Mi piacciono tanto. Poi, avendone già provato uno, so proprio come si stendono anche sull'unghia. Quindi ci sono trovata effettivamente bene. Poi non lasciano striature e coprono molto bene. E coprono molto bene. Quindi, sì, effettivamente mi piacciono davvero tanto. Niente, per questo video è tutto. Spero vi sia stato utile per fare le vostre scelte in caso di acquisti. e, niente, non ve le fate scappare. Perché poi dopo non le trovate più. Quindi dopo non vi lamentate che sono finiti. Se vedete un colore che vi piace non ve lo fate sfuggire. Perché veramente andranno a ruba questi colori. Molto, molto belli, molto estivi. Mi piacciono davvero tanto. Niente, basta ciacciare. E vi saluto. Un bacione. Ciao.